Ciao gente! Ben ritornati in questo nuovo episodio loquendo della Reignited Trilogy di Spiro 2. Dopo che il bastardello dell'orriccone mi ha fottuto altre gemme solo per imparare a nuotare e venire qui e affrontare altri portali per ottenere altri talismani per liberare a Valar da quel sucaiola di un omino americano, andiamo, non c'è tempo da perdere, dobbiamo prepararci a proseguire con la nostra avventura. Sei un comunista di merda, perché stai raccogliendo altri talismani per liberare a Valar. Sarebbe come portarti la democrazia in casa, continua così e ti faccio trovare crush sotto casa tua. Ancora tu o min? Ma che sfaccino? Ma va a fare bucchino? Prima c'è romc fuoc, strunz. Esatto Spiro, lo mini merda non c'è da scassa o cazzo, se no metto pesc noc. Guardate adesso come me lo incullo per venino a questo stronzo. Aiuto un tizio con intenzioni poco raccomandabili, mi vuole inculare eeeh. Fregato e inculato, stronzetto. Ma che cazzo? Si è messo a piovere così all'improvviso? Baffanculo, odio sta cazzo di pioggia, em. Beh dai, parliamo con sto tizio. Uo Spiro, prima che arrivare tu, ci sono dei tizi che ci hanno fregati e inculati, madonna se le loro madri sono delle gran mignottone. Il bello è che ci hanno fottuto le nostre lampadine dell'IKEA, em no, da quando l'IKEA crea delle lampadine, al massimo crea i mobili, vabbè, sti cazzi, XD. Sì certo, ma se non fosse per tutta questa pioggia che mamma mia, se non mi muovo a prendere il talismano rischio di beccarmi un raffreddore. Non bastava la pioggia al mondo dei draghi, mo pure la pioggia in sto posto del cazzo, ma IATA fa mo cacchita muort. E il bello è che mi tocca fare questa avventura con sta pioggia. Ma annate bene amori ammazzati. Uo guarda Sparks, guarda che bell'arcobaleno. L'unica cosa che mi dà consolazione. Anzi, un'altra cosa che mi darà consolazione è raccogliere in poco tempo sto talismano, che già mi sono rotto di sta pioggia del cazzo. La pioggia indebolisce le mosse di tipo fuoco, e io sono di tipo fuoco. Em, ma qua siamo su Spiro, mica su Pokemon. E dai Spiro, perché dovresti odiare tutta questa pioggia? Oddio, se Vudica avesse visto tutta questa pioggia penserebbe a questo. Con tutta questa pioggia che sta facendo mi viene l'acqua, e con l'acqua mi ci faccio il caffè. E se prendo il caffè, va a finire che sgancio un peto millenario, che potrebbe distruggere questo schifo di posto. Che mal di pancia, ahiaia. Peccato che ad avvalar non esistono casse cessifere. Beh, ne ho uno portatile di casse cessifere, non si sa mai. Eeeh, volevi un'ubamizzazione? Guarda che faccia vogliosa di essere ubamizzato. Non se l'aspettava. Salve stronzetti, come cazzo state? Vedo che state per raccogliere un altro talismano, l'immortacci vostra. Continuate a raccoglierne altri, e vedrete come Crush vi ubamizzerà in men che non si dica. Spero che vi beccate il raffreddore con tutta questa pioggia, altro che ubamizzazione. L'immortacci tua o mino di merda. Appena sento la tua vocina del cazzo mi distrai. E sta pioggia che mi scassa sia la palla destra che la palla sinistra draconica. Già non ne posso più di questa pioggia. E se non altro sono tutto dagnato fradicio. Se fossi un Carmander, la mia coda si sarebbe già spenta e a quel punto sarei morto. Meno male che non ho queste capacità sul fatto che ho la fiamma accesa sulla mia coda. A parte che c'è anche un Pokémon che ha la fiamma accesa sul suo culo. Ma vabbè, e poi siamo sospiro e parlo di Pokémon? Classico proprio, e poi sono io quello fissato su altri giochi. Ma piantala di dire stronzate che sembri proprio un bambino. Em, ma ora che ci penso sei un piccolo drago. Che a malapena riesce a sputare le fiamme. E sotto la pioggia. Quindi goditi la tua ipotermia sotto la pioggia. E soprattutto goditi anche la tua abamizzazione. Dato che in questo luogo di sono parecchi nemici pronti a abamizzarti a dovere. Maledetto Mino americano. Se non la smetti di scassare la minchia giuro che tiro una fiammata talmente forte che ti brucerò il culo. Se non te ne vai, tappic che fiammca tengmoc. Vatteno si note chi avna a capata moc. Hai visto Mino di merda? Quando mi fai incazzare, mi fai venire il napoletano incazzato a bestia? Vattene, oppure ti brucio vivo, e non ti conviene. Stronzo. Chissà perché ho la voce così, forse è sta cazzo di pioggia che me fanno girare palle draconiche. E sti stronzi che mi tirano il cacciavite in testa. Madonna che male alla capoccia. Un cacciavite in testa fa male anche a un drago. Sia ben chiaro. Ecco. E sono pure morto come un pirlone. L'immortacci tua o Mino americano. Quando parli porti talmente di quella sfiga che dovrebbero nominarti il nuovo iettatore di avanti un altro. Piezza e merda. Spiro. Mi dicevi? Spiro. Spiro. Ah no. Volevo tipo improvvisarmi il fottutissimo colonnello che chiama Snake, quando sembra che è morto, ma si tratta soltanto di un flash deck. Meno male che grazie ai miei poteri, rinascita alle ceneri della Fenice, non abbandonerò mai un amico così prezioso. Sei un comunista di merda, perché ti sei improvvisato il colonnello Campbell di Metal Gear Solid. Sarebbe come portarti la democrazia in casa. Vi ricordo che Campbell non è più un cazzo di colonnello. È soltanto un fottutissimo veterano in pensione. E tu spiro del cazzo, dato che sei morto ci godo pure. Buona ubamizzazione. E no caro mino americano di merda. Adesso ho di nuovo una vita in più. Quindi attaccati a sto mio bel cazzone draconico che ho tra le mie gambe. Lol, 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 lol. Sono un draghetto sporcaccione, non c'è che dire. Finalmente vedo la via d'uscita. Non ne potevo più di sta pioggia di merda. Caro talismano. Sto arrivando. Uespiro, grazie per spaccato il culo a quei imbecilloidi. Adesso ti do sto talismano. Spero che non ti sarai incazzato troppo per via della pioggia. Beh ci becchiamo. Siiii, un talismano. Dai che piano piano lo mandiamo in rovina a sto omino americano. Non contarci troppo stupido draghetto viola. Ci sono ancora altri talismani da raccogliere. Per me puoi pure raccoglierne altri. Tanto Krush ti omizzerà una volta per tutte. Ehi, ma guarda che bella gergino abbiamo qua. Ma che cazzo. cazzo ma brutto pezzo di agagagagaga fregato e inculato vendetta compiuta ora vai a farti fottere e fu così che abbiamo raccolto un altro talismano caspita chissà quanti talismani ci sono ancora da raccogliere per far si che tutta Valar sarà libera dall'obamizzazione mi sa che ancora una volta la vacanza alle spiagge del dragome e la sogno bene gente, termina qua quest'altro episodio con loquendo delle Regnaited Trilogy di Spiro 2 ci becchiamo alla prossima